Come si sa, la musica e la danza sono un mezzo semplice e diretto per coinvolgere il corpo, la mente, il cuore e per aprirci al mondo. Il nostro progetto mira quindi a confrontare all'interno della musica popolare ritmi e danze molto diverse fra loro, con lo scopo di creare un vero e proprio calidoscopio di suoni e colori. In questo tubo magico, in cui forme e colori si fondono e si confondono, nuovi mondi nascono. Ritmo, suono, danza, canto si mescolano dando vita ad un arcobaleno di colori. Blu, verde, rosso e giallo sono le tonalità che abbiamo scelto per le nostre coreografie e per riproporre lo storico connubio tra note e movimento, che chiamiamo, come nell'antica Grecia, appunto Choreos. Un avance sull'ecume della mer, noi naviguiamo sulle blu, e siamo noi bercati per le onde, a la fois dure e maudite. L'abime nous attire verso, ma le flore non è una manu, non è una manu, non è una manu. che non è una manu, non è una manu, non è una manu, non è una manu. che non è una manu, non è una manu, non è una manu, non è una manu. Non è una manu, non è una manu, non è una manu, non è una manu. Salute, solitude, solitude. Grazie. Grazie. Grazie.